IL AVERTITO DI FUERTA DI FUERTA FUERTA Fermone, Tommy. Cazzo... Ehi, Dom! Sam? Che cosa sta succedendo? Tu e Poli, sai, mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam, e mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa di Poli stavi cercando questi? Ecco la tua parte! È più di quanto ti spezza. Hai ucciso Poli! No! Lui si è ucciso con le sue mani! Vedo che la cosa ti fa soffrire molto! Che vuoi? Sono felice! È che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera! E poi ho trovato questo sacco pieno di perdoni. Tom, il Don sa tutto di Frank. È della puttana. La puttana. La ragazza che ti piaceva? Sei tu che l'hai risparmiata. Mi dispiace veramente, Don. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. a Don Salieri. Tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà. Ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato le spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. addio. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Grazie. No. Grazie a tutti